Cari amici, eccoci qui al terzo incontro dedicato alla carpenteria metallica, il cui target, come ho già detto, comunque lo ribadisco, non è per chi è già dentro in questo mondo del lavoro, ma è chi è destinato quindi agli studenti, gli studenti dell'ITIS, anche qualche studente universitario che volesse avere un'idea un po' più chiara, magari arriva dal liceo e non sa di questo mondo, facciamo questo breve e questa breve introduzione. Quindi, come abbiamo concluso il precedente capitolo, stavo parlando quindi del progettista, il progettista, colui che appunto una volta acquisito un lavoro, dà le dimensioni, si stabilisce un preventivo, se il preventivo è stato vinto, a questo punto si fa un calcolo molto più diciamo dettagliato e si va a stabilire quali ferri costituiranno le parti della nostra struttura. Non solo i ferri, ma abbiamo parlato anche di nodi. A questo punto vorrei fare una parentesi perché io ho messo queste immagini che voi vedete e che rappresenta questo basso rilievo. Questo basso rilievo l'ho fatto io, ma l'idea non è mia, ma è del mio maestro, Carlo Chiodini da Vittuone, che non c'è più, amatissimo e scorbutico insegnante, molto duro, non cattivo, stavo dicendo cattivo, no, no, molto duro, ma nello stesso tempo molto amorevole. Perché ho voluto mettere questa? Lui ha fatto questo lavoro, lui l'ha fatto in dimensioni grandi, a grandezza naturale, e nella chiesa di Vittuone. Io da una foto ho ricavato questo basso rilievo che l'avevo fatto per un progetto, per questa chiesa, quindi praticamente avevo fatto il basso rilievo, si potevano vendere queste piastrelline per ricavare dei fondi, questo era lo scopo per cui l'ho fatto. Facendolo però ho scoperto tante cose, ho scoperto la grandezza del mio maestro, ulteriormente oltre, se non l'avessi scoperto prima, l'ho scoperto anche lavorando. Ora questo è un basso rilievo abbastanza classico, ecco perché l'ho messo? Perché rappresenta, in questo caso nello specifico è San Giuseppe con Gesù, Gesù nella bottega del padre, che era un falegname. In realtà io non ho uno spirito molto religioso, comunque spirituale sì, ma non religioso, quindi rispetto assolutamente tutto quanto, ma cosa mi interessa? Perché ve l'ho fatto vedere? Perché questo qui è l'atteggiamento che ha un insegnante, ma più di lui ancora, il protagonista in questo momento è l'insegnamento, cioè il docente e colui che poi riceve l'insegnamento, quindi l'allievo, il principiante, l'apprendista. Qual è la particolarità di questo quadro? È lo sguardo perso, il bambino con le mani già, con il martello e lo scalpello, già pronto per lavorare perché vuole imitare quello che il maestro gli sta dicendo, per farsi dire poi bravo perché vuole emularlo e quindi gratificarlo. Quindi c'è questo sguardo, tra i due, dove il docente, in questo caso San Giuseppe, sta facendo vedere la parte più importante di un carro. Lui era un carpentiere, un carpentiere in legno, un falegname, sostanza, costruiva i carri, carpenter. Quello che gli sta facendo vedere è la parte più importante del carro, cioè è il gioco, il timone, non il gioco, il timone, che poi può far dare la direzione quindi al carro, quindi è la parte più importante. Quindi questo è il motivo, quindi sottolineo che per imparare bisogna essere, bisogna trovare un buon insegnante, ma un buon insegnante da solo non basta per far sì che nasca il passaggio della conoscenza, ci vuole anche un buon allievo, il buon allievo deve superare il maestro. Molti di voi mi stanno già superando, io sono molto orgoglioso di questa cosa perché vuol dire che vi ho trasmesso qualcosa di positivo. Siete in tanti, mi mandate tantissime note di gratificazione e questo è molto importante. Allora, ritorniamo adesso a noi, poi alla fine vi lascerò un altro aneddoto perché ormai vi ho abituato così. Allora, abbiamo parlato quindi dell'officina, abbiamo parlato quindi di questa carpenteria, abbiamo parlato quindi del progettista, abbiamo detto che il progettista non sempre coincide con colui che poi fa i disegni. Il progettista calcola, come calcola? Vabbè, ai miei tempi si calcolava con la calcolatrice, quindi manuale di formule e poi si seguiva uno schema per poter portare alla dimostrazione che quella struttura sarebbe potuta, secondo calcoli, stare in piedi, quindi sopportare i carichi ipotizzati. La relazione di calcolo veniva depositata al genio civile, ora le prassi sono leggermente differenti, se qualcuno ce le vorrà raccontare andremo a compendiare questo lato. Ma all'interno della carpenteria cosa succedeva? Al di là della parte burocratica di inviare poi le relazioni di calcolo agli uffici di competenza, la cosa più importante era avviare i disegni perché il disegnatore progettista potesse realizzare dei disegni da prima di assieme, come in questo caso vediamo dei disegni di assieme, ok, e poi arrivare a avere dei disegni esecutivi, i disegni esecutivi, ok, che poi arrivavano in officina, questa è una famosa colonna con un giunto, ok, perché è una colonna molto alta e ha un giunto, quindi la base e così via. Questi disegni esecutivi dovevano essere praticamente avere tutte le quote per poter essere lavorati in officina, quindi il disegnatore progettista disegna fino al dettaglio minimo del singolo pezzo perché è una struttura metallica è fatta di tanti pezzi, dopo questi pezzi verranno aggiuntati sia con saldature sia con diciamo bullonatura, raramente ancora ma molto raramente con la chiodatura. Quindi il compito del disegnatore progettista era quello di sviluppare la bozza che aveva fatto il progettista attraverso i suoi calcoli. Attenzione, il progettista avevo detto che lavorava col calcolatore, quindi con la calcolatrice lì a mano, quella scientifica, faceva i suoi calcoli poi addirittura con il rapidograph, diciamo, lasciava la traccia dei suoi calcoli non su un foglio bianco ma se su fogli lucidi che poi venivano fotocopiati per poter fare, eliografati per poter fare delle copie eleografiche. Poi dopo di che questa prassi è diventata così, si è andata a scrivere col computer, poi dopo di che sono arrivati i programmi che una volta impostato un telaio della struttura e ipotizzati i carichi di lavoro di questa struttura, carichi accidentali, carichi di lavoro, a questo punto una volta impostato il tutto, schiacciando un bottone, il software elaborava tutti gli elementi sviluppando il passaggio delle forze da un nodo all'altro, distribuendo quindi e trovando tutti i carichi che passavano attraverso ogni singolo elemento strutturale, per cui veniva elaborato il calcolo e veniva stabilito quale tipo di ferro, quale tipo di tipologia di ferro potesse essere poi utilizzata, che ne so, un HE, l'HE è un ferro ad H per le colonne, soprattutto i ritti e questo elemento veniva, una volta stabilito con quale resistenza doveva resistere, veniva trovato il profilo adeguato, per esempio, che ne so, l'HE del centro non andava bene, si passava l'HE del 120, ok, questi software che già esistono da parecchi anni possono addirittura togliere il lavoro al disegnatore progettista o comunque coadiuvare il disegnatore progettista attraverso un software che non solo calcola il tipo di ferro, ma va a calcolare anche tutti gli elementi naturalmente, come fosse la colonna, la trave, la capriata e così via, ma addirittura sviluppando i nodi, una volta che tu hai fatto, hai impostato tutto il sistema, il sistema ti chiede che tipo di nodo vuoi fare, lo vuoi bullonato, lo vuoi saldato, allora in quel caso il sistema elaborava direttamente il disegno, non elaborava, elabora, cioè questi sistemi sono attualmente utili, questa cosa è molto importante perché da dirvi, perché allora noi il nostro obiettivo è imparare a capire un pochino il mondo della carpenteria e poi magari con AutoCAD o con Inventor noi potremmo, come in questo caso è AutoCAD, io dal 90 ho iniziato a disegnare in questo modo, ok, e potremmo svilupparlo invece attraverso un software automatico, ad esempio anni fa io ho un software che conoscevo specifico perché Inventor, AutoCAD sono dei software diciamo di ampio spettro, possono essere utilizzati per vari scopi, invece ci sono dei software tipo ad esempio Tecno Metal Menu, che mi pare fosse stato sviluppato da un'azienda su base a AutoCAD, facevano all'epoca, dopo si sarà evoluto moltissimo, non so se esiste ancora, si chiamava Tecno Metal Menu e tu praticamente andavi a risolvere con passaggi molto semplici questi disegni che voi vedete esecutivi, io dovevo fare pezzo per pezzo, riga per riga, lì automaticamente una volta fatto una scelta ti veniva disegnato pezzo per pezzo che tu mandavi in officina, dopodiché con l'assieme di montaggio andavi ad eseguire, quindi ricapitolando dal tennigrafo con la matita e il rapidograph al poi software AutoCAD e poi agli applicativi di cui io ve ne dico uno perché ormai sono un po' fuori da questo mondo e ce ne saranno molti altri, però vi voglio dire che questi software sono molto costosi, per cui un'azienda si attrezza in questo modo nel momento in cui ha un lavoro che gli dia la possibilità di ammortizzare questa spesa iniziale, se non che se invece il lavoro non è un lavoro così intenso è possibile affrontarlo ancora attraverso AutoCAD oppure anche attraverso Inventor, ma ripeto esistono dei software molto specifici, quindi il nostro scopo, qui mi è stato chiesto da un ragazzo se io posso disegnare un capannone e sarà questo l'obiettivo, questo corso lo compendieremo con, diciamo vi faccio questa anticipazione con la costruzione di un capannone. Ora, però è importante quello che vi sto dicendo, è molto noioso perché è poco operativo, ma ripeto il target sono i ragazzi, l'apprendista che avete visto nel basso rilievo e quindi deve sapere un po' questo mondo, io lo aiuto perché questo mondo l'ho capito attraverso gli anni e voglio dare degli elementi per facilitare la comprensione di questo mondo. Bene, abbiamo detto che il disegnatore a questo punto ha queste due possibilità o attraverso naturalmente il computer, non più il tecnicografo che non lo usa ormai praticamente quasi più nessuno, ma ha questa possibilità di scegliere dei software, in questo caso noi ci basiamo su Inventor o eventualmente anche su AutoCAD, ma non certo su un software specifico di carpenteria, vi ho spiegato la motivazione. Quindi, chi è il disegnatore, qual è la figura, ve l'ho già detto la volta scorsa, potrebbe essere un geometra, potrebbe essere un perito meccanico, potrebbe essere comunque un ragazzo che ha fatto studi tecnici o anche professionali, corsi professionali di congegnatore, piuttosto che abbia comunque un'attitudine al disegno e conosca un software. Dopodiché, tutte queste cose vengono apprese direttamente in azienda con un passaggio di consegne da, diciamo, l'operatore più anziano che le passa all'operatore più giovane. Questo sarà anche il tema dell'aneddoto che vi dirò tra poco e quindi, dunque, abbiamo detto, siamo rimasti quindi negli uffici, abbiamo visto che nell'ufficio ci abbiamo il progettista, ci abbiamo i disegnatori, il disegnatore o i disegnatori, a seconda delle dimensioni dell'officina. Qui, se l'ufficio è molto grande e i lavori sono complessi, ci sarà un reparto specializzato in una cosa e un reparto specializzato in un'altra. Se l'officina è piccola e io sono entrato in una piccola realtà produttiva, ma che faceva tutto, tutto, per cui alla fine non ci si annoiava mai perché non si faceva sempre solo il cappannone. Il cappannone si facevano le scale, le scalette, le pensiline, i tralicci, si facevano i serbatoi pensili, si facevano i serbatoi a terra, si faceva di tutto e di più, tutto quello che poteva capitare. Dopodiché, adesso possiamo uscire dall'officina e andare, scusate, dagli uffici e entrare in officina. Abbiamo parlato la volta scorsa dell'officina come un luogo che ha una sua logica di disposizione dei macchinari, del magazzino, del taglio e così via. Che cosa avviene? Quali sono in un'officina, in una carpenteria metallica? Mettiamo qui le immagini. Allora, mettiamo delle immagini così, giusto per non annoiarci. Ok, carpenteria metallica, qui vediamo dei pezzi di carpenteria metallica. che cosa, diciamo, abbiamo detto che c'è una disposizione ben precisa nella logistica del capannone, all'interno del quale il flusso del lavoro deve entrare da una parte e uscire dall'altra finito. Che tipi di lavorazioni vengono fatte in officina? E innanzitutto che tipi di materiali si utilizzano. Abbiamo fatto l'elenco la volta scorsa, lo faccio, lo rifaccio per ribadire in modo che vi rimanga in mente. Chiedo ai colleghi che utilizzeranno questo mio supporto come spiegazione ai ragazzi sul discorso della carpenteria di compendiarlo attraverso una sintesi di quello che io dico facendo delle piccole dispense. Per cui in questo momento il tema è nell'officina che cosa entra. Entrano dei semi lavorati. Ok, questi semi lavorati possono essere dei profilati a caldo, profilati a freddo. Ok? Allora, profilati a caldo, le forme di questi profilati sono delle forme AL, profilato a caldo, una forma chiamata anche angolare, può avere i lati uguali o essere AL, un lato diverso dall'altro. Poi c'è il CNP, CNP che è una forma AC particolare con degli angoli particolari, delle rastrimazioni delle ali. Poi ci sono i ferri AI, detti anche IPE, ci sono i ferri ad H, della tipologia H, c'è H e A, H e B, H e M, sono tre serie che identificano una serie leggera, una serie medio pesante e una serie molto pesante. Poi ci sono dei ferri di altra natura, TIA anche, come profilati e a questo punto ci sono, diciamo, se ne ho tralasciato qualcuno non importa, ma ci sono altri materiali invece che sono dei profilati a freddo. Cosa vuol dire profilare a freddo? Vuol dire che io prendo un pezzo di lamiera di una dimensione voluta, lo piego dandogli la forma ad esempio AC oppure AL. la loro caratteristica è che avranno uno spessore costante, la loro caratteristica è anche che non è un organo di grande tenuta. Ok, poi l'uso che se ne farà lo vedremo successivamente. Quindi profilati a freddo vuol dire che vengono piegati a freddo e profilati a caldo vuol dire che vengono, passando da un massello, un massello incandescente, passa attraverso dei rulli, è una trafila di rulli e questa trafila di rulli arrivano a modificare la rullatura passo passo fino a portarlo alla sagoma richiesta, per esempio un ferro ad H, H e A magari del 200, avrà tutte le caratteristiche del profilato H e A del 200. Io ve lo sto dicendo così in realtà, se io metto qui profilati a caldo possono venire fuori, vivranno fuori un sacco di, come si chiama, di esempi, a parte mettiamo le immagini che sono quelle più esaustive dove vediamo i ferri, questo è un ferro a C, questi ferri a L, vedete qui, vedete la forma che è, qui fa vedere la trafilatura, la profilatura, la profilatura, vedete i rulli che fanno passare e creano il passaggio quindi dal massello al profilo finito. Ok, i profilati invece, i profilati a freddo, profilati a freddo sono questi qui ad esempio, questo è uno scatolato, ok, questo però non viene utilizzato tanto in carpenteria, in carpenteria leggera sì, ma non in carpenteria pesante perché vengono utilizzati più che altro per fare i serramenti e così via. Questo è un profilato anche a freddo, chiamato anche Omega, profilato ad Omega, no? Qui invece abbiamo delle laminazioni, questa è una laminazione parziale, questa qui dovrebbe essere una rotaia, anche le rotaie sono dei profilati a caldo, ok? Quindi entra questo materiale, che dimensioni ha questo materiale? Allora l'acquisto può essere delle verghe fino a 12 metri, quindi significa che io devo spostare dei profili lunghi 12 metri e quindi devo avere degli spazi utili in questa mia officina. Avrò un magazzino dove io non è che ogni volta vado a comprare quello che mi serve da lavorare, avrò una base di magazzino con quello che va di più sempre, diciamo, implementato. Cosa ne devo fare? Allora, se vado a vedere dei disegni di carpenteria, vado a vedere che cosa devo fare di un lavoro. Niente, questo qui è un profilato, vedete, di questo profilo, fino a qui è tagliato, qui è solo tagliato, qui è tagliato, in questo punto dove vedete il tratteggio, e poi è forato, quindi abbiamo visto c'è il taglio, c'è la foratura, poi cos'altro c'è. In questo caso abbiamo una piastra di base, una piastra di base, ok, con la colonna arriva su questa piastra di base, quindi questa colonna sarà saldata. Poi questo che noi vediamo è un fazzoletto, ok, poi vedremo i nomi delle cose. Il fazzoletto anche a sua volta è saldato, quindi abbiamo detto taglio, foro, saldo, ok, trasporto col carroponte da una parte all'altra per fare e ottenere queste lavorazioni. Come taglio, come foro, bene, in questo caso gli insegnanti, i vostri insegnanti, o comunque se non state eseguendo questo corso non attraverso un insegnante, bensì autonomamente, andatevi a vedere come è possibile eseguire in officina un taglio. Il taglio noi lo possiamo quindi andare a fare attraverso, come in questo caso, il taglio laser, noi possiamo fare dei tagli laser, possiamo fare dei tagli con la sega, con un disco, con una troncatrice, oppure possiamo farli anche con una sega a nastro, ok, come in questo caso, ok, vedete, una sega a nastro per tagliare, per tagliare, quindi questi sono i macchinari fondamentali che troviamo in officina, insieme a che cosa? Al sistema di saldatura, che anche qui si apre una grande, diciamo, livello di conoscenza sulla saldatura, dove io non mi addentro, ma vi dico che è possibile, insomma, andare a compendiare tutto questo, sapendo che però in un'officina, oltre al taglio, la foratura, esiste anche la saldatura, che è una delle principali attività che vengono eseguite. Quando il pezzo è stato tagliato, saldato, forato, spallato, perché la foratura, il taglio non è detto che sia il taglio lineare, tac, taglia una fetta, può avere un taglio, può avere una sagomatura, ok? Quando è ottenuto questa sagomatura, a questo punto il pezzo è stato forato, tagliato, è messo lì e tutto è acciaio, questo acciaio tende, acciaio è ferraccio, è ferraccio, il ferro sapete che non esiste in natura, il ferro puro non ha nessun senso di esistere se non per scopi quasi chimici, in realtà tutto quello che voi trovate è acciaio, cioè è una combinazione di ferro e carbonio, ok? Con aggiunte a volte di impurità, volute, non volute e a volte invece ci sono dei leganti, dei minimali leganti, ma generalmente l'acciaio è una lega tra ferro e carbonio, quindi tra un metallo e un non metallo. Attenzione allora, abbiamo detto, qui intanto vi faccio vedere un pochino, in una carpenteria, abbiamo visto prima che entrano quei ferri che vi ho detto, entrano anche tubi, tubi tondi, tubi quadri, tubi rettangolari, tubi sagomati, tubi sagomati, ok? Quindi quando parlate di tubo non è tondo, non è unico, il tubo è tondo, no? Il tubo è una cavità, ve l'ho già detto un'altra volta, ha una cavità per cui diventa un tubo, perché ha una parte interna a cava, ma può avere forme svariate. Questi tubi, generalmente per la carpenteria, sono tubi da carpenteria, hanno delle tolleranze abbastanza ampie, non sono precisi al centesimo, sono misurati con tolleranze che vanno intorno al decimo di millimetro, più o meno, ok? Dopodiché, perché ho detto, sto aggiungendo questi materiali? Perché in carpenteria entrano anche questi tubi, di solito si specializzano nelle carpenterie, chi lavora col tubo, chi lavora con i profili aperti, quelli che vi ho detto prima, oppure nelle piccole carpenterie fanno di tutto, devono addettarsi a fare di tutto quello che capita. Per cui, insieme a tutto ciò, che cosa abbiamo? Quindi, per i tubi c'è sempre il taglio, c'è sempre la saldatura, c'è sempre la foratura. Poi però ci sono altri materiali che prevedono altre lavorazioni. E che cosa sono? Le lamiere o i piatti. Che differenza c'è tra una lamiera e un piatto? La lamiera è una, lo dice la parola stessa, una lamina, no? Che ha spessori che però, quando superano un certo misura, non sono più lamiere, ma diventano dei piatti. Faccio un esempio, una lamiera da 10 mm, 10 mm in carpenteria è già un piatto. Cioè esistono lamiere da 10 mm, anche di più, ma sono casi particolari per fare, per esempio, dei serbatoi, che devono ricevere delle spinte incredibili. E sono le virole dei serbatoi, hanno queste, diciamo, dimensioni. Ma si chiama generalmente, una volta superato i 5-6 mm, non è più una lamiera, ma è un piatto. Ok? Di lamiera, intendiamo, chiamiamo lamiere, generalmente, vi dico questa cosa, non è una regola precisissima, però generalmente spessori sotto i 5 mm, quindi dei fogli molto larghi, vengono venduti a dimensioni tipo da un metro e mezzo per tre metri o comunque dimensioni assimilabili a queste dimensioni di massima. Quindi queste vanno tagliate, quindi che altri macchinari devo avere in officina? Devo avere delle cesoie, delle taglierine, no? Se io scrivo qui taglierine per lamiera, chiamate anche ghigliottine, ok? Qui vedo delle piccole, vediamo le immagini meglio, vediamo, qui vediamo piccole taglierine, no? Perché è un nome assimilabile a macchinari un po' piccolini, e poi di che vediamo questi qui, che sono delle delle cesoie, in realtà, molto grandi, no? Che, queste sono oleodinamiche, che vanno a tagliare lamiere fino a spessore X e di una larghezza Y, cioè, vedete in questo caso, vedete la lunghezza tra questi due operai di questa lamiera, che verrà successivamente tagliata. Non solo, ma abbiamo anche le piegatrici, perché la lamiera deve poter essere piegata, quindi se io vado a inserire piegatrici, le piegatrici, vedete, fino a dalle piccole manuali, no? A piegatrici, piegatrici, di invece di livello superiore, vedete, un macchinario proprio che fa le pieghe, questo è un mondo molto particolare, molto particolari, sono piegatrici anche controllo numerico, oppure sono piegatrici, diciamo, comandate dall'operatore e così via. Poi ci sono tantissimi altri macchinari specifici, di cui io però non voglio andare oltre, perché stiamo veramente entrando adesso un po' nel cuore del discorso, ma potrebbe diventare abbastanza noioso. Allora, noi quindi abbiamo introdotto il nostro materiale, l'abbiamo tagliato a misura, l'abbiamo forato, poi l'abbiamo saldato, poi abbiamo fatto altri tipi di lavorazioni, poi abbiamo col flessibile, abbiamo tolto le bave, abbiamo fatto tutta una serie di processi, abbiamo quindi saldato i pezzi che dovevano essere saldati. A questo punto il materiale può essere, diciamo, considerato da un certo punto di vista finito. ma stavo parlando prima del fatto che fosse un acciaio, un acciaio tendenzialmente arruginisce. Quindi a questo punto, se l'officina è abbastanza grande e organizzata, ha la possibilità di creare un trattamento superficiale di questo materiale prima di avviarlo in cantiere. Se così non fosse, lo manda in un'azienda che fa quel lavoro di massima. Cosa si intende per trattamento superficiale di una struttura metallica tipo ad esempio un capannone? Significa che dipende dal cliente, se lo vuole, diciamo, dargli una finitura superficiale di tipo verniciatura con un minio di base, quindi con una sostanza antirugine di base, sulla quale poi vado a mettere una vernice che mi protegge dall'ossidazione. Attenzione! Questa quindi è una tipologia. Qui si apre un mondo. Quello che io vi dico in due parole sono studi lunghi. Perché? Cosa avviene? Allora, se tu fai una struttura metallica e questa struttura metallica ha un certo tipo di utilizzo, tu devi certificare che le vernici che stai utilizzando sono i vernici ignifughe. Uno diceva, ma il metallo non brucia, cioè non prende fuoco. È vero, il metallo non prende fuoco, ma si deforma. Il metallo, cioè il grande problema per quanto riguarda le normative che pretendono i vigili del fuoco, è quello che una struttura metallica debba ritardare il più possibile il collasso della struttura in caso di incendio. Perché collassa con il calore? Perché il calore fa dilatare la struttura, i giunti che lavorano ad una temperatura ambiente, ad alta temperatura, crollano sotto il peso stesso della struttura. Quindi crollano perché si rilasciano, si rilasciano le tensioni, si deformano e avviene il collasso della struttura. questo nulla lo può vietare, anche le vernici ignifughe non possono vietare questo, possono però ritardare questo momento, per cui la gente che è sotto può essere portata in salvo. Ecco che quindi, quando parliamo di verniciatura, dobbiamo stare attenti che le verniciature richiedono dei requisiti ben precisi. Alcune volte per certi tipi di utilizzo di un capannone, di un luogo, se tu hai una struttura metallica, questa struttura metallica deve avere delle verniciature adeguate. Quindi qui si apre un mondo e io lo chiudo subito, perché la seconda possibilità di trattamento superficiale che possiamo dare è quello della zincatura. Il bagno di zincatura, lo zinco quindi è un metallo che è portato a temperatura liquida, diciamo, viene utilizzato per ricoprire la superficie di un oggetto metallico, in questo caso il nostro manufatto di carpenteria, viene bagnato in questo bagno, poi viene scolato e una volta asciugato ha una patina di zinco color grigio, le avrete visti tantissime volte. Se la zincatura è fatta bene dura tantissimi anni, se la zincatura è fatta male dura molto di meno. Chiaramente è molto più costoso della verniciatura. Non solo, se tu prendi un pezzo verniciato e su una colonna devi creare una mensola a saldare dei ferri, tu con il flessibile scarteggi, diciamo, togli la vernice, arrivi al metallo, li saldi, dopodiché ritocchi con la verniciatura. Con la zincatura viene fatta la stessa cosa, ma il problema è che una volta che tu hai, diciamo, tolto lo zinco, lo zinco non, lo devi togliere perché la saldatura non attacca sullo zinco, una volta che hai tolto là dove devi saldare, dopo quando vai a ripristinare la situazione, tu prenderai dello zinco inorganico, cioè zinco praticamente è una vernice a base di zinco, questa vernice a base di zinco non si comporta come un bagno di zincatura, per cui, prima o poi, quella zona che tu hai saldato si, diciamo, si deteriorerà in breve tempo, questo quindi è un po' un limite, quindi devi fare strutture che non prevedono attacchi di altro genere. Benissimo, e il nostro, chi lavora in questa officina, in un'officina ci lavorano degli operai, dei operai carpentieri, e questi carpentieri che devono avere una certa competenza e attenzione anche alla sicurezza, devono avere la conoscenza delle strumentazioni, conoscenza degli strumenti di misurazione, e anche conoscenza dei strumenti di tracciatura, perché loro, quei fori che noi gli diamo il disegno, li devono prima tracciare sul pezzo, ok, e poi devono andare a tracciare, ok, poi devono tagliare, quindi devono saper prendere le misure, saper leggere il disegno, e quindi saper utilizzare i macchinari. In questo caso vi faccio vedere ad esempio che cos'è questo. Questa che vedete è una curva, è un tubo, questo è un disegno così, io tra l'altro devo fare ancora questo, questo tubo è costruito da che cosa? da una lamiera, è un tubo di grandi dimensioni, 300 mm, non lo vendono, non lo vendono, e quindi te lo devi costruire e devi costruire queste curve. Questo settore circolare se tu lo sviluppi ha questa forma, ecco come gli viene data dal, gli viene data dal disegnatore, qui con un passo di 74,8, no? ogni 74,8 è stata fatta una misurazione, quindi cosa fa il tracciatore? Creerà delle curve che passeranno per questi punti, ma lo farà in officina, non lo farà su AutoCAD, e quindi deve sapere destreggiarsi in questo modo, quindi conoscere concetti di geometria, per quanto minimali, ma li deve conoscere. dopo di che utilizzerà in questo caso se lui avesse una macchina col taglio plasma che è un pantografo, alla fine mette sotto una lamiera, gli dà questo disegno senza bisogno delle misure e la macchina la va a tracciare questo percorso e taglia la lamiera. Se così non fosse che lo deve fare umano, deve tracciarlo. Ecco che lui diventa un tracciatore anche quindi conosce anche questi segreti del lavoro così specifico. Ora io vi ho fatto vedere questo esempio qui, è quasi il momento di sospendere perché il video diventa ancora più lungo e noioso perché ripeto non è poco operativo, ok? Per cui io vi chiedo di avere pazienza e di comunque assimilare e crearne anche una dispensa di quello che vi dico. Il video rimane come traccia ma è una traccia discorsiva ogni cosa poi deve essere approfondita io sto facendo in brevissimo tempo cioè in un totale di tre ore magari vi racconto di un mondo a cui occorrerebbe dedicare parecchio molto più tempo per la conoscenza. Quindi ricapitolando abbiamo visto cosa c'è in officina abbiamo visto in ufficio tecnico abbiamo visto che da lì vengono fuori i disegni che vanno in officina l'officina è costituita in un determinato modo attrezzata in un determinato modo e ha all'interno delle maestranze che passano dal profilato comprato a verghe di 6 metri o 12 metri dal magazzino tirano fuori i pezzi tagliano a misura forano spallano saldano e così via fino all'eventuale trattamento superficiale. Il lavoro ora è pronto per andare in cantiere l'aneddoto di cui vi parlavo in breve ve lo dico così avevo un allievo e questo allievo non così come capita tante volte nel bienio ha mollato il colpo perché non ce la faceva era stato bocciato non ha voluto più andare a scuola qualche anno dopo io vado in un'officina a fare un rilievo per un lavoro per un lavoro che mi avevano richiesto mentre sono lì si avvicina questo ragazzo e mi dice prof si ricorda di me io dico si ricordo di te cosa fai e prof lavoro qui faccio l'operaio qui e vorrei anzi mettere intanto che vi parlo vorrei mettere queste immagini ancora perché questo ragazzino non sono io è il ragazzino però questo ragazzino qui a un certo punto mi dice gli ho chiesto come ti trovi qui si però mi trovo bene mi trovo bene già un anno che sono qui e a un certo punto lo vedo un po' imbarazzato e mi chiede prof ascolti si guarda in giro circospetto come se per vedere che nessuno lo guardasse tira fuori dalla tasca il calibro e mi chiede prof per favore mi insegna a a usare il calibro io sono rimasto sul momento allibito dico ma come ho pensato ma parte che io te l'avevo già insegnato in prima e vabbè tu non l'hai voluto imparare non l'hai imparato ok ma qui dico adesso è un'officina possibile che nessuno te lo ha ti ha insegnato a misurare i decimi o i ventesimi che fossi ma eh no purtroppo il prof qui sono tutti gelosi e nessuno ti dice niente questa cosa mi ha stretto il cuore mi ha fatto capire che non è una dote di tutti quella di dare e molti mantengono eh delle conoscenze per mantenere un potere su un'altra persona bene non vado avanti avete già capito tutto comunque eh ho guardato questo ragazzo gli ho detto apri la mente sei pronto? dico sì allora gli ho spiegato dopo non sono passati cinque minuti eh aveva capito aveva capito quello che non aveva voluto capire a scuola perché arrivava così in quel momento lui aveva capito tante cose e per lui è stata una grande cosa imparare eh a usare una cosa semplicissima come il calibro eh quindi lascio a voi le considerazioni di questo di questo aneddoto eh e mh ripeto l'ho già detto altre volte eh il mio maestro di tiro con l'arco orientale eh ci disse una volta non dimenticate la mente del principiante lo vedete quel ragazzino? quello è il principiante guarda il maestro con apertura massima questa apertura massima deve rimanere per tutta la vita al mio maestro gli chiedi gli fu chiesto maestro quanti livelli ci sono nel tiro con l'arco? lui disse ci sono due livelli e il primo livello è allievo il secondo livello è allievo anziano e guardandomi con un sorriso mi disse io sono l'allievo anziano lui era il caposcuola vivente di una scuola che si tramandava da 20 generazioni un insegnamento lui era il caposcuola e così disse quindi eh nessuno di noi è maestro eh o forse lo è nel momento in cui eh riesce a rimanere un allievo vi saluto al prossimo video grazie 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 a tutti